Federica Nargi e Alessandro Matri. La notizia shock di pochi minuti fa. Separati in casa. Benvenuti nel nostro canale. Prima di iniziare il video, ti ricordiamo di iscriverti, lasciare un like, e attivare la campanella per non perderti tutti i prossimi aggiornamenti. La trasmissione, Mamma dilettante, ospita Federica Nargi e Alessandro Matri. Una coppia che, dopo 15 anni insieme e due figli, ha fatto una sorprendente confessione. Non dormono più nella stessa stanza durante la notte. Nonostante questa scelta, la coppia ha sottolineato che questa separazione notturna è dettata dalle esigenze delle bambine, le quali spesso si uniscono a loro dopo essersi addormentate nella loro cameretta. La coppia ha rassicurato sullo stato della loro relazione, confermando che trovano altri momenti per stare insieme durante il giorno. Hanno scherzato sulla vita intima, affermando che dopo 15 anni insieme, se il sesso non funzionasse, sarebbero in una situazione difficile. Inoltre, hanno evidenziato che gestiscono bene la loro vita familiare, trovando il tempo necessario durante la giornata. Alessandro Matri ha condiviso un aneddoto sul passato, rivelando che Federica Nargi era inizialmente molto gelosa e diffidente. Tanto che non si fidava nemmeno di mandarlo in vacanza con gli amici. Tuttavia, nel corso degli anni, la situazione è migliorata notevolmente. Riguardo al matrimonio, la coppia ha affermato che potrebbe essere una possibilità in futuro. Ma al momento non è la loro priorità. Entrambi concordano sul fatto che i figli siano il vero legame che consolida la loro relazione, considerandoli come il punto focale della loro unione. Lascia un commento alla fine del video e seguici per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per averci seguito. A presto con un nuovo video.